... Continua la nostra conoscenza con le eccellenze presenti a Enologica 2018 con l'azienda Vitivinicola Manaresi di Zola Predosa. È un'azienda giovane, nata pochi anni fa, ma importante già con diverse produzioni. Ne parliamo con uno dei responsabili, Fabio Bottonelli, che ci illustra un po' le nuove realtà, i nuovi prodotti. Qui siamo a livello di grafica e di design, anche il vino all'interno però è buono. Allora, si tratta del premio nazionale Etichetta d'Oro per questa Barbera Colli Bolognesi DOC 2015 che si chiama Flora Italica e testimonia appunto la duplice vocazione dei Colli Bolognesi e quindi della nostra azienda che va sia verso i vitigni autocrini come appunto il Grechetto Gentile che dà il vino Pignoletto e la Barbera ma anche una tradizione molto forte, molto antica sui vitigni internazionali tipo il Merlot e il Cabernet Sauvignon. La produzione dell'azienda Manage, quali sono i prodotti, i vini più importanti, ecco i vini, la vostra produzione? Personalmente siamo un'azienda media, diciamo in media dimensione delle 40.000 bottiglie quindi abbiamo un numero relativamente basso di etichette, sono solo 6 e per noi sono tutti importanti quindi ci va dal Colli Bolognesi Pignoletto di OCG Frizzante al Pignoletto Classico Superiore e poi i nostri Bianco Bologna e Rosso Bologna e infine il Varietale di Barbera e di Merlot quindi direi che sono tutti importanti, come i figli, sono tutti uguali. Quindi non c'è un figlio preferito, voglio dire, sono tutti sullo stesso piano. Esattamente. Grazie, buon lavoro.